Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 4 luglio 2019, questa è FanoTV e siete sul canale 17. Ben ritrovati, partiamo subito dal Santo del Giorno, vediamo chi ci propone la regia oggi, Sant'Andrea di Creta, ma anche il beato Pier Giorgio Frassati. Il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.54. Vi avevamo detto ieri dei possibili temporali nella notte, così è stato la notte scorsa. Rovescio temporali che si sono sentiti un po' verificati un po' su tutta l'entroterra pesarese, ma fin sulla costa. Allora, oggi la protezione civile delle marche ha emesso questo bollettino. Avremo cielo sereno e poco nuvoloso in mattinata. Dalle ore centrali è previsto lo sviluppo di nuvole comuniformi nelle zone interne, che poi si sposteranno verso la costa. E dunque, che cosa accadrà oggi? Saranno possibili ancora rovescio temporali nel pomeriggio, più probabili sul comparto montano e collinare della regione. Ma attenzione perché potrebbe succedere così come è successo la scorsa notte. Cioè che questi temporali dalla montagna si spostino verso la costa nel pomeriggio di oggi. Poi, per quanto riguarda domani, venerdì 5 luglio, il sole splenderà su tutta la costa adriatica, ad eccezione dell'area di San Benedetto. Non si escludono isolati i piovaschi sui monti Sibillini, ma in linea di massima la giornata di domani trascorrerà con cielo sereno e poco nuvoloso. Così come sabato, sabato ancora qualche addensamento soltanto più consistente in montagna, però in linea di massima tutto andrà bene. Soprattutto per chi si trova in vacanza dalle nostre parti nella regione Marche, li salutiamo a proposito. Ci sarà forse un lieve peggioramento nella giornata di lunedì associato ad un calo delle temperature. E a proposito di temperature, vediamo quelle previste per le ore 14 di oggi. Anche per effetto dei temporali, come vedete, non superano i 30-31 gradi. Fermo è la temperatura più alta che si avrà oggi intorno alle 14 con 31 gradi appunto. La più bassa è sul Monte Bove, sud. Alle due del pomeriggio si toccheranno 17 gradi. Quindi se uno ama il fresco bisogna che va sul Monte Bove a 17 gradi. Per il resto insomma siamo intorno ai 29-30 gradi. Allora andiamo adesso a vedere i giornali. E come sempre abbiamo i nostri due quotidiani con le edizioni di Pesaro Urbino, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Il Corriere questa mattina apre con le agevolazioni per i commercianti che hanno anticipato l'applicazione delle norme sui Deors. Cioè quei gazebo, quelle tende che stanno fuori dai locali. Chi è in regola con i Deors appunto non dovrà pagare la TOSAP, la tassa. Agevolazioni per questi commercianti che quindi hanno questa buona notizia. Oggi, entro questo mese, l'amministrazione pesarese provvederà ad emettere il nuovo regolamento per gli esercizi commerciali che già si sono adeguati installando il nuovo arredo esterno dei Deors. Però a centro pagina invece c'è questa fotografia che riguarda il ponte sul fiume Foglia, siamo nel Pesarese. Sono state pulite tutte queste arcate sul fiume che però hanno riversato rifiuti e plastiche praticamente in spiaggia. E i consiglieri adesso chiedono di segnalare questo intervento sbagliato, secondo me anche nei tempi, ma comunque al di là dei tempi, visto che quando si pulisce un fiume inevitabilmente, siccome il fiume finisce a mare, inevitabilmente tutti i detriti finiscono al mare. E al mare ci sono i bagnanti, almeno a luglio e agosto. Però questo è stato, la pulizia è stata fatta adesso e quindi questo è il problema che c'è in questo momento. Condanne per il doping invece la fotonotizia sul resto del Carlino. Il caso è il verdetto contro Porcellini e il collaboratore De Grandis. Mentre stacca a morsi l'orecchio dell'idraulico, lite per la revisione della caldaia, scatta l'arresto. Il ROF in grande stile per i 40 anni, c'è stata la presentazione a Roma. Sullo sport il mercato per il basket, la Vuel, arriva a Totè. Mentre nel calcio, ecco Pavan, squadra dunque feroce e sotto, presidi, caos dopo il verdetto del Tar. Parliamo di scuola, la rabbia dei partecipanti, assurdo, era tutto trasparente. E adesso la notizia che farà un po' così sorridere sarcasticamente. Abbiamo parlato anche noi nel telegiornale di due pescherecci che da San Benedetto avevano deciso di tornare con la loro pesca a volante nel porto di Fano. Era un bel segnale, tutto quanto, tutto in pompa magna, mancava solo la fanfara al porto per accogliere questi due pescherecci. Due pescherecci che dopo dieci minuti se ne sono tornati a San Benedetto, zitti, zitti, la chietichella, senza dire nulla a nessuno. Perché? Perché il fondale non c'è niente da fare, è troppo basso, il porto non è ancora attrezzato per accogliere queste imbarcazioni che sono comunque grandi e dunque a causa di questo fondale sia la Dragut che Cosma e Damiano se ne sono tornati a San Benedetto del Torto. La Cosimo, Cosma e Damiano se ne sono andata ieri, la Drago partirà dal porto, lascerà il porto questa notte appena avrà l'alta marea. Insomma, tre giorni dopo queste due imbarcazioni se ne sono tornate. Sembra detto meglio, dice uno dei due comandanti, meglio guadagnare poco ma evitare di rompere, di danneggiare l'imbarcazione. Poi si parla della Fano dei Cesari, si pensa al biglietto, un po' come succede con il Carnevale di Fano, si paga dopo tanti anni di ingresso gratuito. Al Carnevale di Fano quest'anno si è introdotto il biglietto d'ingresso, tra le polemiche, però alla fine si è visto che 100.000 passa euro fanno comodo. In barba tutti coloro che dicevano che il Carnevale è di tutti e che doveva essere comunque libero. La Fano dei Cesari è di tutti ma se uno vuol partecipare c'è bisogno che tira fuori qualche euro perché comunque fare le cose costa. E quindi è giusto che in qualche modo si contribuisca a far sì che questo, anche perché poi se no pagano tutti. Cioè paga il Comune e pagano anche quelli che magari la Fano dei Cesari o al Carnevale non gli interessa nulla. La città comunque torna indietro di 2.000 anni, scrive il Corriere Adriatico, l'entrata a pagamento forse il prossimo anno, nel 2020. Presentato intanto il programma dettagliato della prossima settimana, si inizia lunedì con l'accensione del fuoco sacro, il clou domenica con il corteo e le corse della Corsa delle Bighe. Poi ancora si torna a discutere di questo convento, di questo monastero dove dovrebbero arrivare i trappisti direttamente da Roma, i trappisti che hanno acquistato questo terreno sulle colline dietro Montegiove. Agli ambientalisti non piace, adesso ci si mette pure l'ex sindaco Giuliani che ricorda i vincoli di legge, il piano regolatore anche rispetto ad un convento. Insomma la collina di Montegiove che di per sé è già una collina dove c'è, vedete anche l'eremo che sta lì da ormai centinaia di anni e nessuno ha mai detto niente, è bello anche da vedere, questo convento non è visibile quindi sarà nascosto agli occhi di chi guarda da Fano, dall'autostrada eccetera eccetera. L'ex sindaco Giuliani però non gli va giù sta cosa e quindi oggi spiega attraverso il Corriere Adriatico il perché e il perché non è il caso di dare l'autorizzazione ai frati trappisti, questo ordine fondato in Francia, di venire a Fano in questa nuova location. Poi Fano, la pagina del resto del Carlino, Fano dei Cesare Pagamento, anche qui il titolo in apertura, ipotesi del vaglio del comune per il 2020, oggi però questa settimana, quest'anno ancora sarà gratis. Dal Corriere Adriatico, Morris morì per sua colpa esclusiva. La Profilglas, che è un'azienda leader mondiale nell'alluminio, fa causa a tutti i familiari, promosso un accertamento negativo in tribunale ma il giudice propone un risarcimento da 1 milione e 700 mila euro. L'operaio precipitò dal tetto, la famiglia ha chiesto 7 milioni di euro di danni, c'è stato anche uno scambio di lettere, tra cui una scritta di suo pugno dal proprietario, dal titolare Paci. Ancora dai quotidiani in aula il riscatto di porcellini, condanna ma non ci fu il doping, cade l'accusa più grave, un anno e sei mesi per ricettazione di sostanze non importabili in Italia, per De Grandis invece 30 giorni in meno, utilizzavano personalmente farmaci e anabolizzanti e non in concorso. Mentre la vicenda di Grassetti, Grassetti è stato assolto, non ebbe il tempo di soccorrere il fratello, dunque il giudice mette fine a 5 anni da incubo vissuti dall'artigiano. Assoluzione dunque con formula piena dall'accusa di mancato soccorso per Oscar Grassetti, fratello dell'imprenditore artigiano Alessandro Gressetti, rimasto vittima dell'incendio che si era sviluppato in una piccola porzione del suo capannone a Montecchio di Pesaro. Una vicenda giudiziare che è durata, come dicevamo, 5 anni, imputato prima di omicidio colposo, poi derubricato nel capo di imputazione di omissione di soccorso al fratello. Ancora dai quotidiani, siamo sulla Valle Foglia, rissa feroce con il tecnico della caldaia, gli stacca un pezzo d'orecchio a morsi, un diverbio che è degenerato sulla pulizia dell'impianto domestico, arrestato il padrone di casa sul posto del 118 ai Carabinieri, Raptus alla Tyson, il famoso pugile che è rimasto famoso e rimarrà famoso vita natural durante per aver staccato al suo avversario a morsi, appunto, un orecchio durante un incontro di pugilato. Il Raptus è costato al mai capitato un intervento chirurgico e 25 giorni di prognosi. L'aggressore è stato arrestato dai Carabinieri presenti a Montellabate ed ora è in attesa dell'udienza, un'udienza di convalida che avverrà nella giornata di oggi. Il Carlino invece ricorda di un processo che vede alla sbarra Antonio Lauriola, ex vicario dell'equestore di Rimini ed ex equestore di Pesaro. L'accusa per lui è quella di aver fatto pressioni sulla polizia stradale per annullare la multa presa dal figlio. Lauriola ha sempre negato, ma secondo gli inquirenti, a incastrarlo. Ci sarebbe la registrazione fatta con il cellulare da uno degli agenti a cui Lauriola avrebbe chiesto di modificare i fatti così da ottenere l'annullamento del verbale. E qui c'è la pagina delle Marche del Corriere Adriatico con la cronaca. Ieri è stata una giornata nerissima per Ancona. Due tragedie in meno di quattro ore al passetto dove per esempio un pensionato anconetano è stato colto da malore in acqua ed è morto dopo un tuffo intorno alle dieci e mezzo del mattino. All'ora di pranzo invece in porto, sempre ad Ancona, una turista americana che era in attesa di andare, di imbarcarsi per la Grecia su un traghetto, è andata in arresto carridiaco ed è deceduta nell'auto che avrebbe dovuto portarla in vacanza sotto gli occhi praticamente di una amica. E poi ancora c'è un altro ritrovamento di un cadavere, sempre ad Ancona, una persona, una signora che dice vado a passeggiare, invece è stata trovata morta in spiaggia. L'ha trovata un ragazzo che è stato il primo a dare l'allarme martedì sera, stava passeggiando in riva al mare con gli amici e il cane, il cane che poi ha fiutato qualcosa nell'acqua. Sembrava un sacco di immondizia, in realtà era, scrive il giornale, il cadavere appunto di una donna. Una donna di 65 anni, ex cuoca in una scuola che lascia il compagno e due figli. E poi, attenzione, perché siamo in un tempo che in molti utilizzano per le diete, quando ci si deve spogliare, mettere in costume, oppure perché c'è semplicemente una fissa che vuole sentirsi a posto con il proprio corpo, il che non c'è nulla di male, ma bisogna stare attenti. Perché? Perché un 27enne di osimo in 5 mesi è finito persino in coma, perché a un certo punto ha seguito uno di quei guru che si trovano su internet e che promettono con i propri consigli di diventare tutto muscoli scolpiti, con la tartaruga in vista, eccetera, eccetera. Tra l'altro questo qui sui social era seguitissimo, è seguitissimo perché 23 mila follower, insomma non sono pochi, e lui diceva se accettate i miei consigli potete diventare come me. E c'è cascato purtroppo un 27enne di osimo, e gli sono bastati solo 5 mesi di training e diete ferree per ammalarsi e finire anche in coma. Colpa, secondo il ragazzo che poi l'ha denunciato, di quelle sedute massacranti e di un regime alimentare che gli aveva prescritto. Rischia di affogare, salvato un turista modenese dal Corriere Adriatico, scattano i soccorsi, il difibrillatore si dimostra ancora una volta essenziale, è successo a Pesaro. Qui vedete nella fotografia le ambulanze in Viale Trieste, è stato un pomeriggio movimentato, ieri lungo la spiaggia di Levante, per un anziano turista che ha rischiato di affogare e lo riporta appunto il giornale questa mattina, il Corriere Adriatico. Urbino invece. Maddalena. Vado avanti? Sì, abbiamo avuto un calo di corrente in studio, in questi giorni purtroppo è un susseguirsi di cali di corrente, lo segnalano anche i nostri reporter di strada, vedo in questi giorni sul nostro sito, sul nostro Facebook, continui i cali di tensione che non fanno bene alle apparecchiature, non fanno bene sia a noi qui in studio ma immagino anche a voi a casa quando si spengono improvvisamente computer o elettrodomestici, insomma non è il massimo ed è capitato per cui chiedo conferma alla regia se possiamo andare avanti, vado avanti, vedo che siamo in onda, grazie. Allora, Urbino, so dove è il dipinto della Maddalena, Londèi, il quadro di Raffaello in America in una collezione privata, Londèi sollecita le istituzioni della città a chiedere il prestito ai collezionisti privati per le celebrazioni del 2020 e per riavere l'opera assieme alla Santa Caterina. Poi ancora sempre dalla nostra rassegna stampa la presentazione del ROF, è un'edizione extra large, quella che è stata presentata ieri a Roma, sono 40 anni, del resto non sono pochi per un festival che ha raggiunto tanti importanti traguardi, stiamo parlando del signo Opera Festival a Pesaro, primo fra tutti il primato di spettatori provenienti dall'estero ed è stata, dicevo, un'edizione presentata ieri nella Capitale dove hanno partecipato il vice sindaco Vimini, il sovrintendente Palacio, poi Maria Elena Rossi dell'Enit, il sindaco ovviamente Matteo Ricci di Pesaro, Gianni Letta che è presidente della fondazione Rossini e Letta dice si sta facendo un lavoro importante, poi il resto del Carlino pubblica questa mattina il programma con le date e insomma tutto, ci sono due pagine questa mattina sull'estero del Carlino, tutto quanto c'è da sapere. Fossombrone, Magic Summer, Alvia con la musica caraibica, negozi aperti a Fossombrone fino alle 24, fino a mezzanotte con animazione per contrastare la crisi del commercio e poi la cronaca, una coppia è stata arrestata dai carabinieri per droga, due ordinanze di custodia del Tribunale di Piacenza. Ancora dal Corriere Adriatico, ballo, arte, giochi per i bambini, siamo di nuovo a Fano, Sassonia, fiorisce con l'estate, presentato il programma degli eventi. Poi dal Comune confermato l'incarico a Stolfa, dopo quelli a Celani e Renzi per il capo di gabinetto, previsti oltre 100 mila euro, scrive il Corriere Adriatico. A San Costanzo festeggia Giovanni, il ciclista, Alvia la costituzione anche di un fan club, il ciclista Carboni, maglia bianca al Giro d'Italia, esempio di umiltà e di impegno. Questa è la fotografia con alcuni scatti di questa festa che c'è stata l'altra sera. Investita, fa il giro della regione prima del ricovero, una cinquantenne di pergola va in ambulanza ad Ancona, poi è stata rimandata a Pesaro. Insomma, è stata investita davanti a casa, ha trovato un posto letto in ospedale, è stata ricoverata quasi però 24 ore dopo. Nel mezzo ci sono 170 chilometri in ambulanza tra Pergola, l'ospedale di Torrette di Ancona e infine quello di Pesaro, il San Salvatore. È una vicenda che è capitata ad una donna, cinquantenne, investita domenica intorno alle 21.30, lungo via Le Kennedy, proprio a due passi da casa sua. Ricorda, racconta questo episodio, Marco Spadola sul Corriere Adriatico di questa mattina. Dal Corriere l'ultima pagina è per seguire le vicende del Fano, la squadra di calcio cittadina che nonostante la retrocessione in Serie D c'è e sta vivendo queste ore di speranza perché c'è la possibilità di invece ritornare tra i professionisti e quindi la C. Il titolo di oggi in qualche modo dà speranza ai tifosi, Fano in viaggio verso la C, il segretario Minardi oggi sarà infatti a Firenze per presentare alla Lega Pro la domanda di riammissione. Dopo aver effettuato anche l'iscrizione in D, Gabellini può ufficializzare la collaborazione con Lascoli e per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, Cozzella e Zamuner sono i due nomi che stanno circolando in questo momento tra quelli papabili. Ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale, Occhio alla Notizia e come sempre per le vostre segnalazioni questo è il numero da contattare. Grazie per essere stati con noi, l'augurio è di una buona giornata. Grazie.